Sono poche persone, ma grazie a Dio, e quindi vediamo tra queste persone che sono arrivate, se c'è qualcuno tra di loro che ha qualche domanda, intanto abbiamo letto dal Vangelo secondo Marco intorno al Grande Comandamento, cos'era il Grande Comandamento, abbiamo letto ieri intorno ai Sadducei e alla Resurrezione, e come questa persona aveva chiarito che il primo e il secondo comandamento cos'erano, gliel'ha chiesto al Signore Gesù, ama il tuo Dio con tutto se stesso, e ama il tuo prossimo come te stesso. Vediamo adesso se c'è qualcuno tra di voi che ha qualche domanda da fare, alzi la mano, e ecco qua sentiamo.